Come vedete siamo tutti insieme, non è un caso che abbiamo voluto farci la foto con voi che fate da grande sfondo perché la speranza di questa regione, la speranza dell'Italia è il centro-destra. Abbiamo sempre dimostrato che noi siamo veramente uniti e coesi, andiamo sempre insieme, ad ogni elezione c'è una coalizione di centro-destra che si candida per vincere sempre. I risultati mi pare ci stanno incoraggiando, lo dicono i sondaggi, anche in Basilicata dicono i sondaggi che le cose andranno molto bene, però tra il sondaggio e il risultato ci sta ancora qualche giorno di lavoro, quindi dobbiamo tutti quanti noi impegnarci di tutte le forze della coalizione per far vincere Vito Bardi, per avere altri cinque anni di buon governo di centro-destra. Dobbiamo lavorare tanto, i Lucani hanno capito che cos'è il buon governo, i Lucani hanno capito cos'è il bonus gas, i Lucani hanno capito cos'è il bonus acqua, per tanti anni in Basilicata non sono stati usati i soldi che arrivavano dal petrolio, finalmente con il governo di centro-destra si è cominciato ad usare tutto ciò che derivava dal petrolio per far pagare meno tasse ai cittadini lucani e si andrà avanti ancora di più durante i prossimi cinque anni. Io credo che la dimostrazione del buon governo di Vito Bardi sia il fatto che ci sono tante liste a sostenerle, i confini del centro-destra si allargano, il vero campo largo è il centro-destra, perché sempre di più ci sono forze che si uniscono a noi, lo stiamo vedendo anche in questa campagna elettorale. E anche il governo guarderà con grande attenzione alla Basilicata, perché l'Italia non cresce se non cresce il Sud e il Sud non cresce se non cresce anche la Basilicata. Grazie.